Noi dobbiamo soltanto imparare e impiegare meno tempo nel realizzare questi importanti investimenti. Per il futuro garantiamo tempi inferiori, soprattutto quando siamo davanti a delle vere e proprie eccellenze che si spostano oltre il livello regionale, diventa un riferimento di carattere nazionale. Questo per la casistica straordinaria che caratterizza cardiochirurgia, per questa scuola che si è consolidata qui. Io sono molto contento che perveniamo a questo risultato e mi sembra con l'apprezzamento generale di tutti. Si inaugura un nuovo riparto all'ospedale di Chieti. Una buona notizia che arriva dopo 10 anni e 50 milioni di euro. E noi consegniamo un vero e proprio gioiello sia dal punto di vista dell'edilizia, perché è antisismico, ha una forte staticità finalmente rispetto all'edilizia sanitaria che è in campo in questa regione e ha anche un patrimonio tecnologico di valore, a disposizione degli operatori preparati di livello internazionale ma soprattutto un dono vero e proprio alla comunità degli abruzzesi e ai pazienti che dovessero averne bisogno. Se da un lato si celebra l'innovazione e la possibilità di ampliare l'offerta, dall'altro si pensa in un quadro più complessivo ai nuovi traguardi da raggiungere per Chieti. La rete territoriale sicuramente è l'obiettivo urgente a cui dobbiamo mettere mano, perché sul fronte ospedaliero credo che sia stato fatto molto. Ci sono tante polemiche, vedi a Tessa, vedi Guardia Grele, però al di là di questo credo che la rete ospedaliera di questa provincia oggi garantisca buoni livelli di qualità e soprattutto delle performance sanitarie importanti su molte patologie. La sanità piange, taglie riduzioni e resta l'interrogativo? Nuovi spazi? Nuovo personale? Deve anche sottolinearsi che tutto questo funziona se funziona l'intera sanità abruzzese, se funziona il nostro policlinico con tutti i reparti che sono necessari perché anche cardiochirurgia abbia eccellenze. Ne faccio uno di esempio su tutti. Noi abbiamo il problema di chirurgia vascolare che oggi è sottodimensionata ed è un reparto fondamentale per far funzionare le nostre chirurgie e le nostre medicine. E allora, benissimo l'inaugurazione, siamo tutti felici di questo, adesso aspettiamo che anche possa funzionare bene la macchina che abbiamo oggi inaugurato.